Nelle prime ore del mattino dello scorso 24 febbraio siamo stati tutti raggiunti dalla notizia che le forze armate della Federazione Russa avevano invasto l'Ucraina, entrando nel suo territorio da molti punti diversi, in direzione di Kiev, di Kharkiv, di Donetsk, di Mariupol, di Odessa. Come tutti quel giorno ho avvertito un pesante senso di allarme, di tristezza, di indignazione. A questi sentimenti si è subito affiancato il pensiero agli ucraini, svegliati dalle bombe e dal rumore dei carri armati. E pensando a loro mi sono venute in mente, come la senatrice Liliana Segre, le parole. Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Sappiamo tutti dove sono tratte queste parole. Sono le prime di bella ciao.